Salve a tutti ragazzi, qui TTT, ben ritrovati sul mio canale, finalmente, 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 un po' si sta meglio, direi anche è l'ora, veramente tremenda ragazzi, veramente tremenda. Detto questo, oggi vi do un attimino calmino per un semplice motivo, domani mi aspetto delle cose, non so se avverranno, ok? Non lo so, non prendetele come sicure, però domani è il 23 e se, calma eh, teoria del complottismo a parte, domani è il 23 e se è il 23esimo torneo mondiale come celebrazione per la Golden Week, mi aspetto sinceramente che il Global faccia qualcosina di speciale, giusto perché è il 23. Però ora, cavolata parte, siamo sulla Burst, perché ancora non l'ho battuta, sono sincero, non ci sono ancora riuscito, è la prima Burst che sto avendo problemi e ho dovuto disattivare roba, perché normalmente io vado per 6.000 e in su, ma in su, non ce la faccio, siamo a 6.010 con la roba più schifosa possibile attiva, non ce la faccio ragazzi, andiamo, andiamo. Questo è il team che ho preparato, è Androidi, Androidi, A-G-L-E-S-T-R, perché effettivamente è quello che è più roba fra le combo che sono possibili. Tanto iniziamo la run, ragazzi, prendetelo come un video tranquillo, ok? Ci rilassiamo un pochino assieme. Finalmente non ho... Alla tosse c'è ancora un pochino, però è leggera, poi sentite anche la voce tornata e tutto, quindi, yeah. Prima cosa, prima di andare avanti, ragazzi, vi ricordo, nel secondo canale troverete, d'ora in poi, unboxing di Pokémon e anche altra roba con carte. Quindi, vi ricordo, andate a darci un'occhiata, trovate il video qua sopra, nel commento pinnato, ho già aperto un Elite Trainer Box, andate a darci un'occhiata. In queste settimane probabilmente arriva anche altro. Detto questo, partiamo! Allora, visto che sto schifo mi sono tolto il chi, mi sembra. Non ci sto provando più da due giorni perché ho sclerato talmente tanto. Colpa del C-17 che prende 400.000 con la passiva full attiva. Allora, sì, yeah, vai a immaginare che Gotenks fa danno con una burst. Che strano, eh? Diciamo che non è il dock an event più facile su cui fare la burst, ok? Soprattutto quando le categorie sono androidi e gli unici androidi giocabili sono gamma 1 e gamma 2. Yes, quando vi dovete portare a GL, STR, sono gli unici. Allora, ho le turnazioni, non ci credo. Quello che ci importa a noi è boostare intanto gamma 2. Eh, gamma 2 fa dei danni della madonna. Però, giuro, veramente, l'ultima volta che ci ho provato due giorni fa sono esploso male e ho deciso... No, basta, non... Cioè, va bene, ok, nel senso... È un po' una rottura. Giusto per capirci, perché questo, ripeto, non è la burst mode più facile che ci sia. Perché il dock an event è un po' particolare, un po' rompiballe. Cosa abbiamo? Come Team Formation Restriction abbiamo Only Androids o Only Time Limit. Time Limit credo che non sia poi così facile in confronto. Non hai gamma? Yeah. Dopodiché c'è... Si può usare solo Tech e STR. E lì, ok, bello, si possono usare gli androidi Tech, però gli STR fanno schifo. Yeah, quindi... C'è AGL STR, AGL Tech. Ecco, AGL Tech forse ci sta, però si perdono troppi punti. 150 punti da AGL STR, quindi non lo so. Dopodiché, vabbè, abbiamo il 400 Team Cost. Non ci sono LR effettivamente da utilizzare in questi team, quindi... Easy, 440 punti... Oh, ma wow, lo riesco a boostare per una volta. Io se lo metterei in un bel posticino, si chiama A Girare Fuori Dalle Scatole. Yes. Famo questo perché non mi fido proprio. Perché è una delle fasi finali, ovviamente, quando vi dicono che la restrizione è AGL STR, o AGL Tech. Secondo voi perché? Perché Gotenks è INT e poi passa Tech. Quindi, yeah, vi counter i Tech e vi counter gli AGL. Yeah, è divertente, vero? Eh no, dai, smettila di tirare ste special. Capite che prende un po' di danni qua, ma appena arriviamo da Gotenksinth, se gli arriva la special, è kaboom completo. È una rottura di balle. Ok? È una rottura di balle. Vabbè, comunque, come debuff c'è tutto attivo. Cioè, non lo si può debuffare, non lo si può silare, non lo si può stannare. Sono i punti più facili da fare, quelli. La damage reduction è contro i Tech, ovviamente, perché abbiamo i Tech. Non abbiamo i Tech nel team, quindi... Yeah. E abbiamo, ovviamente, il Raises Enemy Attack by 150 e Def 200, che dà 600 punti. Il resto riduce il danno del 15. Non ho messo le challenge dell'attacco. E ho abbassato l'attacco del nemico, perché, fidatevi, si esplode. Oh, qua dobbiamo potenziare un attimino Gamma 1, che deve prendere giusto quei due colpini. Giusto un attimino. Stavo dicendo, non ho potenziato l'attacco del 200%, l'ho messo a 150, si perdono un sacco di punti. Ma perché il 200% vuol dire che una special su qualsiasi PG che non è Gamma 1 è morte. E non è divertente. Questa porre sta cattiva, ripeto. La Def è al 500, ma quella non è poi tanto un problema. Gli HP Challenge non ci sono e, ovviamente, gli HP 700 c'è. Dopodiché c'è il Lowest Damage del 100.000 to 0. Avevo messo l'ox character, ma no, non è funny. E c'è... forse ho tolto anche il key, meno 3, non mi ricordo ora. Ma basta vedere uno dei PG che non ha preso il key e via. Ok, allora, calma. Calma, perché qua uno dire... No, mettici 17. Eh, no, io vi faccio vedere, però implode se arriva la special, eh. Giusto dirvelo, implode, eh. Calma. Non è proprio così... facile. Yeah, vedete che prende 12.000 da quei pugni? Sapete cosa fa la special quando avete 200% dell'attacco in più? Fa male, fa male. Quindi... Oh no, dai, ma sei un rompipalle, Gotenks! Ora... L'avevo disattivata abbastanza, perché sinceramente questa uccide troppo easy. Uccide C-17, è uno dei pochi tank che abbiamo qua dentro. Vabbè, amen. Solo che non mi piace a me fare 6.000 punti e basta. Devo essere sincero. Scusate, è più forte di me. Ah, l'ultima roba che mi ero dimenticato. No item, no memory. Yeah. Ok, vabbè, qua si va easy. Non è un problema, però che... Che rottura. Normalmente, cioè... Non credo... No, vabbè, ho i post su Twitter, ma ci metto un casino a cercarveli. Però normalmente vado per 6.500, 6.700... Perché mi piace? È una sfida. Però quando è sensata è una sfida, ok? Mi spiego. In questo Dock an Event andare per quei punti non è sensato. Il semplice fatto è che fa troppo danno. Gotenks, ti prego. C'è Gamma 1 lì davanti. Dai, è chiamatissimo. Gamma 1, non rompere le balle. Dai, su. Gliela fai su di lui. E siamo tutti felici, no? Procedo a farmela su Cell, vero? Ho tanta paura di quello. Tanta paura di quello. Per favore, Dock an... Non rompere, dai. Che palle. Che palle, veramente. Anche perché lui c'ha veramente un sacco di vita, eh. Quando gli aumentate di tanto la difesa, questa fase è veramente, veramente tosta da buttare giù. Quindi... Eh, ce lo dobbiamo assorbire per un pochino questo Gotenks. Ed è pericoloso. E la cosa che è pericolosa in realtà dopo è che può essere Gotenks fisico o Gotenks tech? Se Gotenks tech... Mmm... Fun! No, dai. Non me la fare su Cell. Te la tieni per te? Te la tieni per te? Grazie, Dock. Quanto va via? Yes. Capito ora che quando è al 200% one-shot-tava Cell, vero? Yes, è questo che rompe le balle, no? Per questo... No! Vabbè, dai! Ma... Grazie, Dockan. Ripetete insieme a me. Grazie, Dockan. Ti vogliamo bene, Dockan. Yes. Voglio solo... Non vedere mai più la faccia di Gotenks. Non so se mi spiego, no? Vabbè, qua è tech. Dobbiamo solo crittare, è la cosa importante. Eh, ste robe dobbiamo fare. Ste robe. Boom. Che turnazione? Fu la GL con C-17 che se gli arriva la special in faccia muore. E se C-17 i danno ne prenderà probabilmente. Sì, è divertente. No, questa burst non mi piace proprio. Non mi... Vabbè, no, forse è meglio. Su di lui forse è meglio, effettivamente. Sì, su di lui è meglio, ecco. Anche perché non so ora quanto prendiamo di danno da pugni qua. Se ne prendevamo un po', forse... Sì, no, no, no. Vabbè, abbiamo preso comunque tante, quindi chi se ne frega. Non credo neanche che questi Dockan event facciano due special, quindi... Ok, prende... 100. Ok, devo capire C-17 e se t'anca i pugni. Perché c'è questa sfiga, no? Se vi capita Gotting Stack è un bella... Eeeh... Implodeva dalla special, by the way. Cell non ne parliamo nemmeno. Cell non ne parliamo nemmeno. Ok, in questo modo va bene. Ci recuperiamo un po' di HP lì. Recuperiamo un po' di HP lì. No, vabbè, in realtà questo ci va... Perfettamente... Anzi, meglio in realtà. Il meglio è su gamma 1. Però... No, no, ok. Gamma 1 e gamma 2, ovviamente, alla tornazione, però... Boh, non voglio solo vedere la special. Mi spavento ogni volta che la vedo, quello. Nient'altro. La vedo, faccio... Che poi, la cosa cattiva in realtà è che forse... Sarebbe meglio andare di 2 gamma 1, per essere più tankosi. Però in realtà, se si va di difesa in questo, è troppo rischioso per il PG terzo che gira del cacchio, che se becca la special, fa kaboom e quindi yeah. Ma qualche special in più? Bravo, bravo, gamma 2. Bravo, carriaci. Dai che è quasi morto. Cioè, possiamo fare, no, Doc? Dai. È l'ultima volta che ci ho provato e ero arrivato a meno di... Del 2% della barra finale, l'ho fatto kaboom. Yes. Quindi, giusto un attimo, no? Allora, adesso si leva il tech, però non mi... Eh sì, ritorna supercentral, ok. Vabbè, dobbiamo solo pensare a ucciderlo. E basta. Allora, ehm... Boh, ci dice... Gamma 2 può rimanere primo in realtà? Gamma 2 potrebbe rimanere primo? No, no, di Cell non mi fido minimamente, proprio. Di Cell non mi fido minimamente. Scusate, ma proprio no. Eh, se mi arriva la special, deve arrivare solo post special di gamma... Oh, no, Cell! Maledetto chi? Non rompere. Oh, grazie. Calma. Calma, ce la posso fare. Non sono in modalità. Ti prego, me la voglio levare, sta burst, e poi... Chi se ne frega. Dai! Me fai un'altra special. Dai! Crittala anche, fammene un'altra, se vuoi. Siamo a posto, dai. Dai, siamo a posto, lo giuro. Caboom! Docam! No, non l'ha fatta. Special qui? C17 ce la fai, vero? Sei un top PG, vero? Nel 2023, vero? Ammazzalo. No, no... No, non mi ammazzate, ti prego. Ok, tank a 90.000. Va bene, esplodeva... Capite l'ultima volta, perché sono morto, vero? Yeah. No, va bene, ce l'abbiamo fatta, finalmente. Questa è la burst che... No, credo che non la farò più. Ho fatto 6.000 punti. Sono a posto e mi levo dalle balle. Molto semplice. Mi levo, mi levo perché semplicemente non è funny sta burst. E sto dock an event che in realtà non è funny. Per fortuna non hanno scelto Gotenstack, che era anche peggio con la damage reduction, se non vado errato. Ok, a posto. Andiamo. Oh, eccolo lì. Le medagline abbiamo fatto, mi dispiace solo aver fatto veramente così pochi punti. E ripeto, normalmente vado per i più punti possibili perché è una sfida in più. È divertente, è più divertente. Questo non è divertente anche con una sfida in più. Questo è solamente rompipalle. Va bene ragazzi, questa era la burst. L'abbiamo fatta... data anche più decente dell'ultimo erano. Ho dovuto twiccare un attimino il danno solamente perché quello era veramente cattivo. Detto questo ragazzi, è stato un piacere. Grazie mille per aver visto il video. Lasciate un bel like, commentate se siete nuovi sul canale. Considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.